Tanti oggi cristiani, tra virgolette, come Sedechia, loro non vogliono questi messaggi, sapete? Loro non vogliono queste profezie, queste riflessioni, loro vogliono altri messaggi piacevoli. Vogliono un aiuto da Dio, loro vogliono Dio che gli aiuti, ma loro non vogliono ubbidire a Dio. Oggi stiamo arrivando in un'era dove la maggior parte del cristianesimo è così. Loro vogliono un aiuto dal Signore, ma loro non vogliono ubbidire al Signore. Tu vuoi un aiuto da Dio, ma tu non lo vuoi ubbidire? Tu sei un figlio del diavolo, ti devi convertire e allora sarai un figlio di Dio. Alleluia, 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 Spirito Santo. Amen. Tu pensi che Dio è il tuo servo? Tu pensi che Dio è lì per darti i tuoi piaceri? Tu pensi che Dio è come la lampada di Aladino che l'Eterno sgridi queste dottrine di demoni? Tu pensi che Dio è il tuo aiutante personale? No, tu devi servirlo, tu devi ubbidirlo. Tu devi tenere il Signore. Devi capire che Lui è il Dio Santo, il Dio di giustizia. Alleluia, che Dio è rettitudine, che Dio è santità, che Dio non terrà per innocente il colpevole, che Dio non può essere beffato. Alleluia, se no sei un evangelico cattolico. Oggi ci sono tanti evangelici cattolici, sapete, che non hanno più l'acqua santa del prete. Il prete veniva a mettere l'acqua santa, no, oggi hanno il pastore che gli fa una preghierina per lì pulire la coscienza. Il pastore vieni a pregare a casa mia e il pastore diventa come un prete che gli porta l'acqua santa. Oggi ci sono evangelici così. Pastore fammi una preghiera. Pastore dimmi una preghiera. Pastore io ho bisogno che tu preghi per me. E tu con me stai vivendo? Tu sei un evangelico cattolico. Sei un evangelico a modi sedecchia. Sei un ribelle, un disubbidiente. Dio non vuole questo. Dio non vuole. La protezione di Dio è per quelli che lo temono. Quanti dicono gloria al Signore. Amen. Questa parola è veritiera. Oggi stiamo vivendo in un'epoca dove il cristianesimo, tanti, nella loro carnalità, lo hanno manomesso secondo i loro ideali. Pensano che andare in chiesa è come andare all'Urdes, a Međugorim. Vogliono un miracolo, ma non vogliono ubbidire al re dei re. Tu vai in chiesa come andare a un santuario della Madonna. Vai lì per cercare un miracolo, come fanno i cattolici, ma poi non vuoi ubbidire a Cristo. Tu sei un cristiano falso, come sedecchia. Sei un adultero, un adultera, spiritualmente. Non ti offendere per questa parola. Ma ringrazia Dio che ti sta parlando, ti sta correggendo. Giacomo 4.4 dice Adulteri e adulteri, non sapete voi che l'amicizia con il mondo è inimicizia verso Dio? Oggi ci sono tanti, così, fratelli, che il Signore abbia pietà. Che vanno alle riunioni, vanno in una comunità, partecipano a un culto solo per ottenere un beneficio personale. Ma loro non si vogliono sottomettere a Dio. E vogliono Gesù solo per i pani e per i pesci. O Dio mio, ripetà. Vogliono Gesù solo per un miracolo. Vogliono Gesù solo per un aiuto, che gli dia un buon lavoro, che li guarisca. Ma non vogliono sottomettersi alla volontà del Signore. È quello un cristianesimo falso, di prosperità. Un cristianesimo materialista. È un cristianesimo ipocrita. E la maggior parte oggi è così. Lo sapete voi, fratelli? Tanti di voi lo sapete. La maggior parte dei cosiddetti cristiani, che il Signore abbia misericordia, vivono così. Loro vogliono che Dio gli aiuti, ma loro non vogliono ubbidire al Signore. E queste persone hanno un Dio che non è il Dio biblico. Evangelici che non hanno un Dio biblico.